Buonasera a tutti, mi chiamo Gianluigi Pagani, sono il vicepresidente della consulta fra antiche istituzioni bolognesi. Ringraziamo voi tutti della presenza a questo nostro secondo incontro del quarto anno dei giovedì della consulta. Oggi si parla del tartufo, un gioiello della nostra terra. L'incontro come sempre verrà tenuto dal professor Roberto Corinaldesi, di professione medico, docente merito dell'Alma Mater, ma per passione storico, appassionato, esperto di Bologna, bolognese docche che ringraziamo sempre per la sua squisita disponibilità. Faccio una brevissima premessa per permettere alle centinaia di persone che ci si sono collegate di poter entrare nel nostro sito e nel nostro spazio che viene curato da Succede solo a Bologna, l'associazione che ringraziamo per la disponibilità tecnica. La regia, la signorina Erika. L'evento dei giovedì della consulta, giunto ormai al suo quarto anno, è organizzato dalla consulta fra antiche istituzioni bolognesi che nasce nel 2002 per riunire 28, oggi tra poco saremo 29, storiche istituzioni che operano a Bologna attive dal 1170 in avanti, la più antica fra di noi. Sono 28, 29 storiche istituzioni che lavorano da centinaia di anni in ambito sociale, scolastico, sanitario e culturale per il bene di Bologna e dei bolognesi. Oggi ve ne voglio presentare sei, vado velocissimo perché nel corso di queste cinque puntate, cinque incontri, racconteremo tutte le nostre istituzioni che sicuramente molti di voi conosceranno. Fra le nostre istituzioni abbiamo la fondazione Pio Istituto Sordomute Poveri in Bologna che è stato fondato nel 1845 da Monsignor Buffetti, il parroco della chiesa della Santissima Trinità in via Santo Stefano e dai conti Piriteo e Annibale Vincenzo Ranuffi. Aveva lo scopo di accogliere e dare istruzioni a fanciulle sordomute di famiglie disagiate. Prima l'attività si svolgeva all'interno della famiglia della casa Ranuffi e nel 1857 fu acquistato il convento di via della Braina con il grande orto che è tuttora sede dell'istituto e oggi è utilizzato per bellissime iniziative come l'annuale incontro Peonie in Blum. Poi abbiamo la fondazione Sorbi Nicoli del 1873 che è stato uno dei primi ospedali pediatrici di Bologna per la cura gratuita delle fanciulle povere lasciato e realizzato grazie all'ascito del patrimonio di Anna Sorbi l'istituzione dedica all'assistenza dei giovani nel rispetto della volontà della fondatrice. Poi abbiamo l'istituto dei ciechi Francesco Cavazza 1881 che svolge la propria opera in favore delle persone non vedenti e svolge un servizio di consulenza educativa rivolta alle famiglie dei bambini e ragazzi ciechi e ipovedenti a tutte le scuole dell'Emilia Romagna offre dei servizi e conosciuto in tutta Europa è una vera eccellenza della nostra città. Poi abbiamo l'istituzione Asile Infantili di Bologna che ebbero origine nel 1847 a cura di un comitato di cittadini che volevano erigere una moderna forma di assistenza per soccorrere i fanciulli poveri e ancora oggi opera a Bologna e in tutto il mondo con anche diversi progetti internazionali. Poi abbiamo la nostra storica famiglia bolognese a cui ci teniamo molto, 1928, nata e fondata lo scopo di tenere vivo fra i bolognesi l'amore per la città, per le tradizioni, per gli usi, per la letteratura dialettale, per favorire lo sviluppo delle canzoni della canzone bolognese incoraggiando autori e attori bolognesi a un imponente archivio storico e una biblioteca ricca di testi sulla storia della nostra città. Finiamo con la sesta consulta, con la sesta istituzione della nostra consulta che è la Mutua Salsamentari 1876 Giuseppe Vaccari, un giovane salumiere di Bologna, ridavita l'antica compagnia dei Salaroli, corporazione medievale che riuniva tutti coloro che utilizzavano il sale per conservare le carni o per preparare i formaggi e all'epoca la Mutua si proponeva di venire in soccorso ai soci in difficoltà economica, si occupava di istituire una cassa pensioni per gli operai del settore e si impegnava per la loro alfabetizzazione e ancora oggi è operante e operativa a Bologna con tante iniziative. Bene, ho già rubato troppo tempo al professor Corinaldese a cui cedo la parola per parlare del tartufo, un gioiello della nostra terra. A dopo per le domande. Grazie, grazie infinite, è un vero piacere essere con voi questa sera come al solito per rivederci per una nuova esperienza appunto a parlarvi di questa cosa particolare, di questo tartufo. Beh, com'è che usate ma devo partire dall'inizio? Ecco a voi. Ora vi dico la verità, vi confesso che questa sera sono un pochino preoccupato perché di fatto sicuramente tra voi ci sono molte persone che ne sanno certamente più di messo l'argomento. E poi in secondo luogo devo dire la verità perché spero di non far dei per male. È un po' come la storia delle tagliatelle, no? Tutte le volte noi pensiamo e diciamo che non c'è niente di più buono, non c'è tagliatella migliore di quella che è stata fatta dalla nostra mamma. Lo stesso discorso vale per il tartufo. Se parli con qualcuno state pur tranquilli che il tartufo migliore è quello che è nel suo comune o addirittura nell'orto di casa sua. Quindi spero di non fare a un certo punto dei per mali citando un punto piuttosto che un altro della nostra provincia. Ora però voi credo vi domanderete una cosa ma per quale ragione a un certo punto vi vengo a parlare di tartufi? Beh, direi è presto detto innanzitutto perché sono goloso, no? E quindi non potevo non essere attratto da questo cibo che è un sobrano indiscusso di pranzi, banchetti generosi e spumezzanti e tanto esaltato da tutti i gourmet che addirittura Plinio comprese tra le cose meravigliose della natura. E poi perché sono curioso e quindi non potevo non essere attratto e appassinato da quell'alone di mistero che circonda questo fungo ipogeo, sì perché di fatto il tartufo è un fungo. È un fungo il cui corpo fruttifero che è simile ad un tubero si forma sotto terra in simbiosi con numerose piante legnose ed erbace da cui ricava profumi e sapori. Il nome tartufo deriva dal tardo latino terretuffer, tuber nel latino classico, e quest'ultimo termine tuber viene probabilmente dal verbo tumme o gonfio, in quanto i tuberi venivano ritenuti nell'antichità dei tumori della terra. Ora, in Europa si conoscono circa 30 specie convertibili di tartufi, di cui solo tre con la gleba, cioè praticamente la pasta interna bianca, fortunatamente non esistono tartufi velenosi. Solo due, la balsamia vulgaris e il coromices meandriformis, se consumati in una certa quantità, a parte il fatto che praticamente hanno un sapore, diciamo molto, ma molto, ma tra i tartufi commestibili, il discusso sovrano è il tuber bianco, il tartufo bianco o tuber magnato, cosiddetti perché pochi da sempre hanno avuto la possibilità di permettersi di averlo sulla propria tavola. Pensate che il Guinness dei primati, per quanto riguarda a un certo punto la spesa sostenuta per l'acquisto di un tartufo, risale a qualcosa come il 2001, quando c'era ancora la lira, e per un tartufo di 730 grammi un famoso chef di Hollywood pagò qualcosa come allora 12 milioni di lire. Comunque, ha un colore giallo-ocra, come ben sapete, e dimensioni che possono arrivare ben oltre quello di una grossa patata, e poi ha tutte le carte in regola per essere esaltate, cioè un odore acuto e dominante, e che alcuni addirittura non riescono a tollerare, la capacità di abbinarsi sia ad elementi semplici che complessi, e il prestigio, diciamolo pure, che circonda tutti i civi rari e carissimi, che sono di per sé un simbolo di un successo sociale. matura in un periodo che va da settembre a dicembre, e matura in tutti i terreni di formazioni recente, quelli ad esempio i depositi marno-argillosi del periodo terziario, lungo il corso dei fiumi, soprattutto sotto pioppi, salici, querce, etigli e altri. Il costo elevato non è dovuto soltanto alla sua bontà, ma anche al fatto di crescere in zone abbastanza ristrette, e il primo tra tutti, e certamente dobbiamo accettarlo, sono le langhe, dove in media ogni anno si raccolgono circa dalle 6 alle 5 alle 6 tonnellate di tartufa. Ma questo regalo della natura si trova anche abbondante lungo alla valle Padana, come sappiamo è una valle marno-argillosa, e soprattutto dove? In provincia di Bologna, di Piacenza, di Ravenne e Forlì. Poi si trova ancora nel Polesine, in provincia di Rovigo, nelle crete di Siena, nell'alta valle del Tevere e qua e là, in Abruzzo e Molise e in alcune zone dell'Istria. Certamente meno pregiato del tuber magnatum è il tuber albidum o borti o tuber borti, altrimenti detto marsuolo o bianchetto. È più piccolo sicuramente del magnatum e ha dimensioni che possono tutto al più raggiungere quelle di un'albicotta, presenta un colore che è variabile dal giallo ocra al brun arancio, matura in un periodo diverso, matura da gennaio ad aprile, soprattutto dove? Nei terreni argillosi e nei terreni sabbiosi. Nei terreni sabbiosi quali? Quelli delle pinette, delle pinette litorane, particolarmente nella zona romagnole eccetera. È caratterizzato da un sapore, da un aroma non troppo accentuati, che comunque tendono un pochino all'agliatio, ma sono certamente notevolmente gradevoli. Tra i tartufi neri, o a gleba nera, al primo posto dobbiamo porre il tuber melanosporum, che i francesi definirono le diamants noirs o le truffe pericose, e da noi invece è noto come tartufo nero di noccia. Presenta dimersioni variabili, da una nocciola fino ad arrivare a quelle di un'arancia, una forma che è prevalentemente sferica, e la superficie, che nel tartufo si chiama peridio, sulla parte esterna, è nera, particolarmente scura, verrucosa, a volte con delle piccole venature color ruggine. È di ottima qualità ed è soprattutto apprezzato cotto. La sua morte è cotta e serve per aromatizzare patè, per farciture varie. Il suo matura da novembre a marzo nei terreni calcarii che sono esposti al sole. È abbondante sia nella valle Padana che in Alpenino centrale, soprattutto in Umbria, in Toscana, nelle Marche, ed è presente qua e là anche in altri paesi del bacino del Mediterraneo. In Franza è particolarmente presente in Dordogna, nel Poitou, in Provenza. Per oggi, per merito della tartuficoltura, c'è la possibilità di micorizzare, cioè di inserire le spore di tartufo in alcune piante, che possono essere ripiantate in altre zone, il tartufo nero, questo tartufo, è stato introdotto addirittura in Nord America, in Nuova Zelanda, dove, purché vi siano dei terreni che devono essere soleggiati e particolarmente sufficientemente areati e il clima, diciamolo pure, sia decisamente temperato. A questo punto non possiamo non ricordare anche gli altri tartufi neri meno pregiati, in particolare, primo tra tutti, il tartufo nero d'inverno, o tuver brumale, che matura nel pieno dell'inverno ed è caratterizzato, oltre che da un sapore gradevole, da un odore abbastanza intenso, abbastanza pungente, che è un pochino simile a quello della rapa. A fronte del tuber brumale vi è poi il tartufo estivo, il tuber estivo, che è altrimenti detto scorzone. Lo scorzone è assai diffuso in Europa ed è noto particolarmente in Francia come truffe de thé o le truffe de bourgogne champagne, matura nel periodo da giugno a novembre, anche questo sia in terreni argillosi che in terreni sabbiosi, e peraltro però non ha un profumo, un sapore molto intenso, è un tartufo abbastanza delicato, gradevole, con un aroma, un sapore che ricorda non poco quelle delle noccioli. Infine nel nostro sud, nel nostro sud, in Campania e Irpinia, cresce abbondante nel periodo da settembre a gennaio ed è molto apprezzato localmente, il tuber mesentericum, o tartufo nero ordinario. Ha un sapore accettabile, ma un odore abbastanza pungente, un odore un pochino diciamo che sa di catrame, per cui non è che poi a noi personalmente piazza moltissimo. Invece quello che non è sufficientemente apprezzato, perché sicuramente si trova in scarsa quantità e matura anche lui in un periodo da luglio a dicembre e soprattutto nelle medesime aree di sviluppo del tuber magnatum è il tuber macrosporimo, tartufo nero liscio, abbastanza piccolo, direi è veramente squisito, un sapore molto buono, un pochino tendente all'agliatio, ma decisamente notevole. Per finire, non possiamo dimenticare il terzo dei tartufi bianchi, cioè la terpezia arenaria. La terpezia arenaria, che spesso viene spazzata come bianchetto o confusa col bianchetto, era particolarmente presente nelle mese degli antichi, in particolare negli egizi, che comunque non mangiavano in notevole quantità, però è considerata di scarso valore gastronomico, perché è in particolare poco aromatica. Cresce di terreni sabbiosi, lungo le coste mediterranee dell'Africa, del centennio nale, dell'Asia occidentale, della Sicilia, cioè in tutto praticamente il bacino del Mediterraneo, in Italia Sicilia e Sardegna in particolare. Ora, un alone di mistero ha sempre circondato l'origine del tartufo, sia per quella natura ipogea, che vi dicevo, e sia forse perché è col buio della notte, cioè è sempre al riparo, da occhi curiosi, che i tartufai lo vanno a cercare accompagnati dai loro figli cagnetti. Antelme Briassavaren, che è stato un gran maestro di arte culinaria, nel suo famosissimo saggio sulla fisiologia del gusto del 1825, definiva il tartufo un diamante che arricchisce ogni gioiello di alta gastronomia. Ora, perché diamante? Perché sicuramente il diamante è la più pura e magica tra le pietre preziose e, come ben mi insegnate, si forma per effetto di altissime pressioni e a seguito di potenti scariche elettromagnetiche. Orbene, la leggenda faceva nascere i tartufi dove cadevano le sette di giove, oppure dove cadevano i fiori che Proserpina lasciava cadere quando ritornava nell'Ade dopo il suo soggiorno estivo sulla terra. Teofrasto, famoso medico del IV secolo a.C., credeva che i tartufi fossero dei vegetali senza radici, originati dalle piogge autunnali che erano accompagnati dai tuoni, questo era importante, e Plutarco, più tardi, che fossero il flusso della fusione dei tre elementi naturali, vale a dire le piogge, cioè l'acqua, il fulmine, cioè il fuoco e la terra. Ora, nei secoli però non è mancato neanche chi ha posto in dubbio la natura vegetale dei tartufi. Pensate che addirittura c'è stato che li ha classificati come dei minerali o che ha avanzato l'ipotesi che essi fossero degli organi di riproduzione di insetti. Comunque è nel Settecento che si pongono le basi della scienza micologica. Nel 1780 un naturalista polacco, il conte de Bork, parlò diffusamente, in un suo saggio lettere sui tartufi del Piemonte, del tartufo bianco d'alba, che pochi anni dopo, nel 1788, il medico piemontese Vittorio Picco denominò tuber magnatus, dal latino magnatus, cioè ricco, signore, magnate, per sottolinearne il pregio esclusivo. A sorridere però che ancora a metà dell'Ottocento vi fosse ad esempio un cosiddetto esperto francese, un certo Ravel, che affermava che i tartufi erano i prodotti delle punture di una mosca, praticamente sulle radici delle querce. Ora, fin dall'antichità, il tartufo figurava tra le abitudini gastronomiche dei popoli mediterranei. Esso era sicuramente presente sulle mense degli antichi egizi, in particolare ritengo che mangiasse in prevalenza, come vi dicevo, delle terpenesti che crescono abbondanti appunto nella Nordafrica e lungo le rive del Nilo, ed erano usi, come si legge, e cuocerli sulle bracci. I tartufi commestibili erano certamente presenti e noti anche in Arabia, dell'impero assiro-babilonese, in Persia. E le scritture ci tramandano che i sumeri erano soliti impiegarli a mo' di condimento per insaporire cereali o legumi poveri. Ora, anche nella Genesi, nella Genesi si parla del tartufo e si racconta di Giobbe che gusta i frutti della terra, che venivano in ebraico chiamati dudens, mentre i greci chiamavano il tartufo idnon, da cui il termine idnologia, che è la scienza appunto che li studia. Ora, per capire quanto essi li tenessero in considerazione, basta pensare che le dedicarono ad Afrodite, la dea dell'amore, e che gli Atenesi dettero addirittura, pensate, la cittadinanza, cosa che a un certo punto il diritto di cittadinanza in Atene era una cosa durissima da ottenere, ai figli di un tale, un tal Gherippo, che aveva inventato una nuova maniera per cucinare. I romani ne facevano invece uso in grande quantità. Tanto li mangiavano crudi, come se fossero delle mele. Addirittura Pigno il vecchio ricorda la disavventura accorsa ad un tal pretore Licinio, che si ruppe un dente mordendo un tartufo, all'interno dei quali era rimasta inclusa una moneta. E poi, per dire qual era il racconto in cui i tartufi erano tenuti a Roma, basta che, come ricorda Giovenali in una delle sue satire, addirittura quindici secoli prima che fosse inventata la porchetta, a Roma veniva già usato un attrezzo che era né più né meno che il tagliatrifola che noi oggi attuiamo. Apprestatissimi dall'aristocasia romana durante l'impero, i tartufi erano importati in grande quantità da tutte le colonie, soprattutto Libia, Cirenaica, Traccia, Siria, Grecia. Ed era così vasto il mercato che Diocleziano giunse a demanare un editto che ne stabiliva e ne calmirava il prezzo. Oggi però non li graderemo certamente come li gustavano i romani. Pensate che Celio Apiccio, che vivisse ai tempi dell'imperatore Tiberio, che era un grande esperto di ricette, insomma di cucina, in un suo trattato, il Gerè Cochinaria, ci ricorda una ricetta che vede i tartufi lessati, erano poi quelli sempre tartufi neri o terpesi, poi arrostiti, mescolati con mostarda di mosto dolce, miele e il garum, il famoso garum che a un certo punto i romani mettevano aperto, che era una salsa che veniva preparata con l'interiore a macerati di pesce assieme a erbe e forti droghe. Credo che proprio non fosse la maniera migliore, che forse noi gradiremmo troppo per mangiare i tartufi. Vennero poi le invasioni barbariche e dopo di esse il mortificante clima medievale, con il fatto una scettica tradizione culinaria, non c'era, non ci fu, e che relegò praticamente il tartufo totalmente nel silenzio. Addirittura pensate che il tartufo nero veniva considerato nocivo e veniva definito sterco del diavolo cibo da streghe e quindi oggetto di maleficio. Per fortuna anche tra gli uomini di chiesa non mancarono eccezioni, se è vero che Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, fu a figurare tra quelli che erano considerati estimatori del tartufo. Ora, estromesso dalla cultura ufficiale, il tartufo sopravvisse comunque nella tradizione popolare, però più cucinato sotto la cena. Per la prima volta, infatti, si trova notizia del tartufo bianco di Piemonte in un documento dei ducchi di Savoia del 1380, dove il tartufo viene denominato Volus Mirabilis. Ora è nel Rinascimento, con l'affermarsi e il diffondersi dell'arte culinaria, che il tartufo ritorna gradualmente ad affermarsi nella gastronomia. Ora, ad ogni buon conto, nel banchetto nascimentale, figura ancora in ruoli assai marginali e ci riportano infatti le storie che nel 1529 Cristoforo di Messisburgo, che era lo scalco della corte estense, imbandì un banchetto da oltre 100 coperti con numerose portate di carne e di pesce. Ora, il tartufo comparve soltanto in un primo piatto, in una sorta di insalata capricciosa assieme, miscolato assieme a capperi e uve passite. Bene, il tartufo riesce finalmente a imporsi come elemento insostituibile della più alta cucina alla corte di Versailles, nelle mani degli chef del re Sole. Poi per raggiungere definitivamente l'apice del successo nel XIX secolo. Nel Settecento esso rappresenta infatti il dono, un dono importante che i dupi di Piemonte, di Savoia, inviavano ai sovrani d'Europa. Infatti riportano le cronache che nel 1736 il conte Malabaila di Canale fu incaricato dal duca di portare in dono all'imperatrice Maria Teresa, che era ghiottissima di tartufi, 42 libri di tartufi, assieme a pernici rosse e a formaggi dell'alanche. Carlo Emanuele III nel 1751 invierò al re d'Inghilterra due tartufini, tali Fratelli Vaccina, che con addirittura otto cani andarono a cercare i tartufi sotto le querce del parco di Guisto. Dice la prova che ne trovarono, ne trovarono anche in una certa quantità, ma ahimè erano privi di ogni aroma e di ogni gusto. Ora all'Ottocento è stato certamente il grande esaltatore del tartufo, soprattutto per opera di quell'antenebria Savarey di cui vi avevo parlato precedentemente. Le quantità però allora consumate erano assai superiori a quelle di oggi. C'è vero che il cuoco di Carlo Alberto, tal Giovanni Vialardi, consigliava impiegare almeno mezzo chilo di tartufo per farcire un solo fagiano. Pensate un pochino. Oggi il tartufo, in particolare il bianco, si mangia crudo, ripulito con acqua corrente e spazzole morbide, è ben asciugato e affettato sottilissimo. Si accompagna a meraviglia, lo sapete bene, la carne cruda o gli ovuli reali in insalata. Non dobbiamo però ben dimenticare come si abbini molto bene a patè di fegato fonduta, selvasina in salmì, uova al burro, risotti, taglioline, ravioli e ognoloti, comunque conditi con, mi raccomando, del buon burro. Oltre agli indubbi pregi gastronomici, al tartufo sono state attribuite delle doti medicamentose. I romani gli riconoscevano delle virtù terapeutiche, in quanto erano ritenuti un frutto della potenza di Giove. L'antica medicina infatti si basava per lo più su una dietetica fortemente impregnata di magia e i vari trattati medici cercavano in tutti i modi di trovare per ogni cibo delle reali o supposte proprietà terapeutiche. Infatti si inseriva che nulla, si era scritto, scriveva Alberto Magno, nulla si può trovare sotto la luna che non abbia la virtù di contrastare le malattie. Ora, non per nulla, il tartufo entrò come protagonista in molti beverazzi, cataplasmi o rimedi in genere che venivano considerati ricostituenti o ristoratori. Avicenna, ad esempio, il famoso medico arabo, lo consigliò a modico ririo per detergere l'occhio e Teodoro Prisciano raccomandava di pestare, queste sono le sue parole, dei tartufi ancora verdi e sugna vecchia non salata ai panni, fare un cataplasma e porro sul dolore di petto. E Psello, che era praticamente il medico dell'imperatore Costantino, parlando delle malattie dello stomaco e dei loro rimedi, pose tra questi tartufi, purché fossero neri e profumati. E questo, scusate, è il signore. Ora, questo signore, Alfonso Ciccarelli, vedete questo è il manuale che scrisse, che era un sedicente medico e fisico che era nato in Umbria nel XVI secolo e morì a Roma per mano del carnefice perché era anche un falsario, affermava in questo suo volumetto, l'Opus Colum de Tuberibus, di aver sperimentato un validissimo rimedio per curare i dolori gottosi. E cosa faceva? Bisognava prendere i tartufi, amalgamarli praticamente nel vino, porli su una tegola calda, di argilla calda e fare delle sfumigazioni. Ed altri, invece, lo consigliavano come addirittura a scopo cosmetico. Basti pensare che un altro medico, Jacopo Lerio, del XVI secolo, scriveva di fare un distillato di tartufi, di vino bianco, profumato, fiori di rosmarino, di rigusso di madre selva e poi di utilizzarlo per detergere il viso, quanto purifica, diceva, rende morbida e bianca la pelle in modo ammirevole. Comunque, ben presto, si rese conto che è dell'inficienza di tali rimedio. Più difficile, invece, è da sfatare la credenza che il tartufo possegga delle proprietà afrodisiache. Gli antichi credevano in ciò fermamente. E intanto, infatti, si tramanda che Pitagora consigliasse a un uomo sterile di mangiare i tartufi. Il giovenale faceva dire in una sua satira ai tartufi «Noi non diamo nessun seme, né nasciamo da alcun seme, ma chi di noi si civa crede di aver molto seme». Ora, la letteratura rinascimentale è ricca di riferimenti al potere afrodisiaco del tartufo, tanto che nel XIV secolo Michela Savonarola lo definiva un pasto da veci che hanno una bella moglie e un altro è platina, un cibo pruriginoso per gli uomini ricchi e raffinatissimi che desiderano meglio essere preparati ai piacere di venere. Ora anche il casto ottocento vuole tenere fede a questa credenza, tanto da far affermare sempre al famoso Villas-Savaren che il tartufo non è un afrodisiaco positivo, ma esso può, in certe occasioni, rendere le donne più tenere e gli uomini più amabili. Migliava narrava infatti la storia di una bellissima indifferente che divenne tenera ed affettuosa dopo una cena in cui fu servita una gallinella ben farcita di tartuffe. Ma alla domanda esiste davvero questo effetto afrodisiaco? E se sì, a che cosa è dovuto? Allora grandi sono state le controverse sia tra i clinici che i chimici. Per i chimici nel tartufo sarebbe contenuta, seppure in minima quantità, una sostanza eutrofizzante oppure particolari elementi calmanti che avrebbero un'azione particolarmente utile in circostanze, come voi ben mi dite, in cui un'eccessiva eccitazione può risultare negativa. Tra i clinici invece c'è chi considera l'effetto stimolante un effetto placebo e chi ha accettato invece, con qualche dubbio, appunto l'effetto di questa sostanza iperemizzante, eutrofizzante, cosiddetta, con un'attività stimolante sull'apparature genitale. Essa si troverebbe però in una quantità variabile da tubero a tubero, tanto che sarebbe come vincere alla lotteria, no? Trovare quei tartufi che hanno effetti miracolosi. Ora, se il tartufo sia o no è dotato di un potere afrodisiaco, resta un quesito irrisolto, che però, a mio avviso, non fa che aumentare quel alone di mistero che lo circonda. Se nei secoli la letteratura è ricca di esaltatori del tartufo, non sono mancate neanche le voci contrari o comunque indifferenti. Addirittura Galeno, famoso medico, considerava la trifono un alimento pesante, insipido, seppure diceva fortemente nutriente e afrodisiaco. Li faceva eco alcuni secoli dopo. Grande medico arabo avvicenna, considerandolo frutto senza sapore, molto grossolano, che offre un untimento pesante, difficile da digerire e grava lo stomaco di un grosso peso. E aggiungeva inoltre che si teme da esso la paralisi e la poplessia e fa insorgere la colica e difficoltà nell'urinare. Siamo a posto. Ma i nemici più accaniti furono certamente i cosiddetti medici dietologici del XVI secolo, tanto che a un certo punto, un certo casto durante di Guadalto Tridino, affermava che i tartufi sono sì soavi al gusto, ma sono melanconici, nemici dei derbi, della testa e dello stomaco, fanno triste il piatto e sono difficili da digerire. E proponeva, quale rimedio per sostituirle, delle castagne cotte sotto la cenere. C'era un altro, il Monsignor Baldassare Pisanelli, di Bologna proprio, che affermava che i tartufi nuocciano agli umori, alle complessioni, ai mali melanconici. E poi aggiungeva ancora, che sono molto ventosi. Ora, certe considerazioni fanno sorridere, per meglio comprendere la qualità del tartufo, è necessario conoscere la natura. I primi studi sulla composizione chimica risalgono alla fine dell'Ottocento, per opera in particolare gli studiosi francesi. Di fatto non ci sono sostanze, differenze sostanziali tra tartufi bianchi e neri e l'acqua rappresenta oltre l'80% e la parte secca per il 50%. è costituito da fibre. E un quarto sono di fatto le proteine, per il restante lipidi glucidi. Le proteine sono complete, sono praticamente tutte, sono ricche di amminoacidi essenziali, in quantità simile a quelle che sono presenti nei legumi, ad esempio, che sono importanti, in particolare, lo sapete, per le proteine che sono in essi contenute. È presente anche una quota elevata di un amminoacido, in particolare il triptofano, e rallenta questa sostanza allo svuotamento dello stomaco, per cui potrebbe essere la causa di quella ridotta digeribilità che da alcuni viene asserita. Ora, accanto a quote cospicue di minerali, sono presenti acidi grassi, in particolare acido linoeico, che ha un effetto ipocolesterolemizzante, questo è importante perché ha questi problemi, e poi discreto, infine, il contenuto di vitamine, in particolare, a un certo punto, la vitamine B1, B2, mentre scarso quello della vitamina A e della vitamina C. Certo, però, essi non sono indicati, ovviamente, per chi ha dieta, sia perché sono sicuramente degli stimolanti dell'appetito per il loro particolare aroma e sapore, sia perché, possedendo un basso coefficiente calorico, per lo più si accompagnano però a delle preparazioni gastronomiche in cui certamente non si lesinano le calorie. Ora, il valore dei tartufi è soltanto di fatto gastronomico, ma cos'è che fa sì che essi siano così ricercati? Certamente l'aroma rappresenta la principale caratteristica organolettica. Ora, l'aroma del tartufo è un meraviglioso prodigio della fitochimica e di fatto tra i più stimolanti e diciamo sensuali. Teofrasto, sempre ne abbiamo parlato prima che era un allievo di Aristotele, scrisse addirittura un trattato, un trattato degli odori. Ora, si arriva che gli odori di certe piante e resine sono benefici sulla salute, sul pensiero e sui sentimenti. Ora, lungi dal consigliare a un depresso di annusare del tartufo, non dobbiamo dimenticare l'importante rapporto che c'è tra la funzione olfattiva e l'apparato digerente per stimolare l'appetito, la salivazione e la secrezione gastrica. Ma di fatto, che cosa sono i principi attivi contenuti nel tartufo? Sono dei composti solforganici e in effetti si chiama il bismetiltiometano, si chiama così il composto, accompagnato a misure minori ad alcoli, amine e altri composti fosforati. Ma ahimè, le sostanze chimiche possono essere sintetizzate, come ben sapete, e vi oggi chi mira ad ottenere in laboratorio dei composti per aromatizzare prodotti alimentari calpestando tutta la poesia che c'è attorno al nostro tubero. Ma la natura si difende e ben difficilmente sarà possibile ottenere artificialmente il profumo e il sapore del prodotto fresco. Freschezza che molti cercano di conservare in vario modo. C'è chi suggerisce di conservare per pochi giorni i tartufi freschi in frigo nel riso, avvolti in carta porose e sigillati, che peraltro è carta che va peraltro cambiata quasi tutti i giorni. O più tenerli più a lungo, tritati o finemente aspettati sotto olio o sotto burro. Oppure c'è chi poi a livello industriale li conserva sotto vuoto. Ora, però scusatemi, permettetemi un consiglio, un consiglio d'amante della buona tavola, se volete da medico, ma soprattutto un consiglio d'amico, mangiateli subito, conservate vivo il piacevole ricordo del loro sapore Roma meraviglioso. Con ciò vi ringrazio infinitamente per la vostra attenzione. Ovviamente non senso dimenticare che c'è sempre vicino col suo supporto in queste nostre chiacchierate. grazie di cuore. Bene, bene, grazie a te Roberto, è stato molto molto interessante. Adesso apriamo le domande che si possono fare con il solito sistema o le scrivete nel link domande e risposte in basso sulla sinistra oppure alzate la mano e chiederemo a Erika della regia di farvi apparire in video per fare direttamente la domanda. Ringraziamo sempre l'associazione Succede Sola Bologna e le altre associazioni che insieme a noi collaborano l'associazione culturale Il Ponte della Bionda con il contributo dell'attivio fotografico di Fausto Malpensa. È stato un argomento molto particolare molto dettagliato e quindi io darei il via alle prime domande e la prima domanda la fa il signor Giulio è vero che ci sono tanti tartufi falsi che provengono dall'est Europa messi a riposare insieme a tartufi veri per prendere l'odore che gli originali non hanno. oddio questo questo è un trucco un trucco un trucco un trucco in un certo momento non è direi che più che altro è frode alcune volte ci sono quelli che vendono i tartufi in particolare non so zone d'alba o quello che è che confezionano dei cestini cestini dove ci sono alcuni tartufi che vengono poi venduti a lotti vengono addirittura battuti a lastra e chiaramente in questi cestini mettono dentro uno o due tartufi prevalentemente sono i tartufi dell'istria tartufi dell'istria che sono i tartufi bianchi tuber magnatum però di qualità minore qualità minore e come tale viene messo nel mucchio e così a un certo punto si trova qualcuno che acquista il pacchetto globale bisognerebbe stare lì uno per uno da nusarli sentirli poi di fatto ha giustamente detto il signor Giulio la vicinanza del contatto fa sì che se uno non è bravo proprio a annusarli per bene a sentirli fa sì che si possano contagiare perlomeno sull'esterno con l'odore del vicino insomma è un trucchetto un trucchetto poco simpatico che vi ho messo frequentemente in atto il signor Lamberto professore quali sono i cani da tartufo più adatti secondo lei allora ci sono dei meravigliosi allevamenti oggi di cani da tartufo in particolare uno di allevamenti cioè uno di cani una specie di cani che è il lagotto il lagotto che nasceva come cane da palude come il barbone sembra un barbocino vede già somiglia un po' al barbone è uno splendido cane da tartufo con un odorato meraviglioso però di fatto tutti i cani anche dei bastardini se allevati in maniera corretta sono fantastici in Piemonte ad esempio molti usano i volpini i volpini erano considerati dei cani molto validi da tartufo perché se uno vuole andare su un cane diciamo se no il bastardino qualsiasi cane purché sia levato in assoluto l'animale l'animale migliore da poter utilizzare per tartufo è il maiale il maiale che poi insomma il maiale più selvatico è meglio è perché il più grosso scavatore di tuberi è il cinghiale se voi pensate i danni che fanno i cinghiali ad esempio nei giardini in Compagnia Bella fanno e hanno un naso incredibile il problema qual è a un certo punto bisogna addirittura c'è chi usava il maiale ma gli metteva una specie d'anello attorno al naso attorno al muso per poter impedire che poi il maiale mangiasse perché se no mangia il maiale non sta mica a guardare non dà mica retta come il cane ecco tutto lì quello del maiale è interessante poi andavo a un maiale a guinzaglio a un maiale a guinzaglio c'era a Bologna esisteva un maiale però il maiale in assoluto è l'animale il maiale è l'animale più adatto se uno vuole andare proprio veramente a cercare i tartufi c'è Antonio che fa una battuta la diciamo perché è carina professore mi può dire in quale zona esatta si trovano i tartufi con grandi dosi di libido di cui parlava prima che mi interessano solo quelli no interessava la quota eutrofizzante no allora dipende possiamo dire che noi nella nostra provincia siamo pieni di tartufi eutrofizzanti va bene così mettiamo tranquilli tutti questo è uno scoop non lo sa nessuno è un prenderti è un prenderti come dico poi come dico io ritengo proprio che se questa cosa c'è ha una valenza estremamente modesta sicuramente torno dell'idea che ci sia sì questa questa capacità minima parte diciamo iperenizzante cioè l'aumento diciamo della portata di sangue legata ma però ci siamo già capiti con una pillolina blu si fa prima e costa meno va bene piuttosto che i quintali di tartufo ti ci va più veloce pensate al costo poi dopo fate e Luciano che è della Proloco di Pianoro ricorda le bellissime iniziative della tartufesta che vengono fatte in tutta la provincia e la montagna bolognese in vari periodi di settembre ottobre ricordiamo perché sono momenti molto belli anche di convivialità oltre che ricorda Luciano che quando la fanno ci dica qualcosa che a te siamo ben felici di andare ad assaggiare i tartufi e anche la signora Giorgia che dice che era interessata la nostra proposta dell'ultimo incontro quella cena che avremmo offerto una cena di tartufo gratis a tutti i frequentatori dei giovedì con calma adesso vediamo tutti quelli che frequenteranno tutti gli incontri che forse riceveranno una cena a maggio bisogna essere presenti tutte le volte poi dopo ne ragioniamo sono d'accordo con te bene oggi non abbiamo tantissime domande quindi io almeno che non si accenda qualcosa qualche spia qui intanto vorrei ricordare l'appuntamento del prossimo giovedì che è il 7 marzo sempre alle ore 19 per questa oretta insieme parleremo dei templari a Bologna i templari quindi questo ordine particolare e la nostra riflessione approfondirà proprio la zona di Bologna quindi una cosa molto particolare l'ho sentita poche volte quindi è una una relazione molto bella bene non vedo nessun'altra domanda quindi ringraziamo il professor Roberto Corinaldesi sempre per la sua squisita gentilezza ci vediamo il 7 marzo sempre su questo canale se così possiamo dire e parleremo dei templari a Bologna grazie a tutti arrivederci grazie a tutti